Sabato e domenica all'Ario Fiere di Erba torna il Brianza Motor Show. Nella terza edizione trovano spazio, oltre ovviamente alle auto, anche le moto. 25 tra i marchi più blasonati esporranno in 3.000 metri quadrati. Ci saranno tra l'altro moto e moto, moto di serie, quindi dal trial, cross, stradali, moto da pista, moto custom, ci sarà veramente di tutto. È un ottimo punto di partenza per poi sviluppare in futuro ancora meglio questo settore. Non mancheranno chiaramente poi le auto. Per quanto riguarda le automobili esposte si va dalle ultime novità di mercato ai bolidi da corsa verniciati di rosso con il cavallino rampante sul cofano e proprio al Brianza Motor Show il Ferrari Club Erba festeggerà il terzo posto per numero di iscritti nella classifica mondiale stilata da Maranello. Gli appassionati potranno inoltre provare il brivido della Formula 1 con i simulatori Ferrari gratuiti e riservati ai visitatori. Le aree esterne ospiteranno la parte più dinamica dell'evento. Nella zona denominata Paddock 1 spazio ai test ride delle moto e ai raduni di Vespa, auto americane, autostoriche, Ferrari e Fiat 500. Nel Paddock 2 sfrecceranno le minuscole ma velocissime mini moto grazie alla scuola di pilotaggio del padre di Orge Lorenzo e si esibirà lo stuntman Roberto Poggiali. Nel Paddock 3 è previsto un raduno di moto custom, nell'area 4 invece si potranno provare le ultime moto da trial e infine nel Paddock 5 verrà allestita un'esposizione di tuning. Partner dell'iniziativa è l'automobile Club Como, Brianza Motor Show è in programma sabato 7 marzo dalle 10 alle 24 e domenica 8 marzo dalle 10 alle 21. Il biglietto intero costa 8 euro, il ridotto 6 euro. Da segnalare la partnership tra l'evento e due enti benefici, la Fondazione Marco Simoncelli e Aida, un'associazione che aiuta le persone con difficoltà motorie attraverso la pratica equestre.